Che lavoro fai? Il sindaco. Dove? A Montemarano, a Vellino. Quanto è grande il tuo comune? Circa 33 chilometri quadrati. Quante persone ci abitano? Circa 3.000 abitanti. Il tuo comune è in una zona rurale? Sì, è in una zona rurale. Che cos'è una zona rurale? Una zona rurale è una zona in cui vi è una scarsa densità di abitanti per chilometro quadrato e in cui praticamente l'agricoltura rappresenta una delle prime fonti di reddito. Quanto è importante l'agricoltura per il tuo territorio? È importantissima. Qual è il ruolo di un ente locale per lo sviluppo rurale? Il ruolo di un ente locale è quello di individuare una strategia di sviluppo che possa servire alle aziende locali per progredire. Che cos'è per te l'agricoltura multifunzionale? L'agricoltura multifunzionale secondo me è una nuova visione di vivere l'agricoltura, di unire cioè a quella che è l'attività tipica agricola, quella di promuovere il turismo per esempio attraverso la promozione dei prodotti tipici e anche di salvaguardare il territorio curando e manutenendo per bene le aree agricole.